Si riduce a tre intercettazioni, solo questo voglio dire. Le intercettazioni di Buzzi che dite con questo sindaco e col capogruppo che conosco ci mangiamo Roma. Quella in cui dice che il sindaco 5 Stelle di Pomezia è incorruttibile perché quello siamo. E' l'ultima in cui dice che la vittoria di Beppe Grillo rappresenta un problema e lo sappiamo bene che rappresenta un problema per loro. Ma è anche l'unica soluzione per riportare onestà e un governo corretto nelle istituzioni. Fuori la mafia dallo Stato e passo la parola agli altri colleghi capitolini. Fuori la mafia dallo Stato. Fuori la mafia dallo Stato. Fuori la mafia dallo Stato.